Ciao bambini, oggi vi presento la filastrocca delle vocali A, E, I, O, U. Gamba qua, gamba la, mi presento, sono la A. Io di braccia ne ho tre, vi saluto, sono la E. Sempre in piedi, notte di, dritta e magra, sono la I. Oh, io sbadiglio, altro non fo, che sonno, sono la O. Mi arrendo, braccia in su, non sparate, sono la U. E ora che abbiamo imparato la filastrocca, possiamo con l'aiuto dei genitori, dei fratellini o sorellini, giocare al gioco delle vocali. Preparatevi, che adesso vi farò vedere. Eccola qua, la A, dobbiamo pensare a un oggetto, un animale o un nome di persona che inizi con la lettera A. Con la E, di nuovo, pensiamo a un oggetto, un animale o un nome di una persona che inizi con la E. Con la I, di nuovo, la stessa cosa. Oggetto, animale, nome di persona. Con la O, anche. Un oggetto, un animale, nome di una persona. E anche con la U, in meno tempo possibile, vince il primo che riesce a trovare tutte le parole. Ciao, buon divertimento, a presto. Ciao, ciao.